Eh, coso! Che mi porti in su il residuo e lo butto fuori! Ma, Leonardo, che c'è sempre la festa a Prato stasera? Madonna è mal di testa, non si era detto se andava a Vernio, la saga di Ranocchio. Ma sarebbe a dire non si va a Prato? Io stasera, voi invece, voi rimanete qui a casa. Hai capito? Ho fissato con lui, c'è solo due posti in macchina. Pronto? E allora invece si va, che si fa? Non lo so. Ehi, Leo. O come non si va a Prato? O tu vorresti andare con lui davvero? No, ascolta, ascolta, ti ho detto si va, Puerina. Ti ho detto si va a Vernio, la saga di Ranocchio. Ho fissato una tavolata, siamo 15. O te oggi tu vai a Malisetti, quale dice? E se non c'è nessuno tu vai a Serradio, capito? Qualcuno lo trovi. Oh! Si fa 50 e 50, ci stai? Si fa 50 e 50. Eh, mi raccomma. Ragazzi, si mette 50 e 50 e poi si va tutti in Carvana. Tu vieni anche te. Si mette, si piglia cartine e si va in Carvana. C'è la fonte con l'acqua vola. Vediamo se si va in Carvana. Eh, ma stiamo parlando di 50, ero di Ranocchio o qualche cosa. Perchè non si fa una cosa, si va tutta a Pistoia sulla sala si fa un giro. Ma fa più di mezzo non ci va con lui, va bene? No, te non rompere ogni ora. Bisogna aspettare anche i becari. No, bisogna aspettare anche i becari, ma aveva detto venire anche lui. Oh ragazzi, ma di cosa si sta ragionando? Non c'è una serie a cosa, ce l'alta, ce l'alta. Chiamo qualcuno alla Capitaneria. Ragazzi, fai anche voi. Per me si può andare anche a Pistoia, ve l'ho detto. Si fa Pistoia, si fa un giro in centro. No boia. ci va a sentire. Ci va a sentire. Beh, a sentire. So, se va.